Ciao a tutti ragazzi sono Coridan ancora una volta ben ritrovati sul mio canale oggi vi propongo un nuovo board game che vi dico semplicemente è uno spettacolo ho la pelle d'oca perché da quando lo vedi sul kickstarter lo stavo aspettando veramente da morire come ambientazione, come regole ma soprattutto come miniature è il board game davvero uno scherzo che aspettavo da una vita poi ve lo spiegherò nel corso del video e prima cosa prima di tutto vi faremo vedere un unboxing e intanto ringrazio di cuore la Dimension Games perché non solo mi hanno mandato una copia per la recensione ma mi hanno mandato praticamente tutto il kickstarter completo con tutti gli stretch goals tutti dal primo all'ultimo mi hanno mandato qualsiasi cosa che fosse presente nel kickstarter originario quando è iniziata la campagna fondi quindi ho la pelle d'oca ve lo dico questo è il numero uno per me iniziamo con l'unboxing allora intanto prima cosa che appare nel pacco è penso l'artbook perché lì si vede un progetto kickstarter serio dove uno meno serio ora non voglio offendere nessuno loro hanno fatto la bellezza di un milione e mezzo o due milioni nel kickstarter quindi è normale si possono permettere cose in più un kickstarter che è arrivato a 10.000 dollari insomma deve un po' tirare i remi in barca però chi ha fatto il kickstarter il pledge da 100 euro della versione investigator gli hanno mandato anche l'artbook e ora lo apro perché sto impazzendo cioè non gli bastava metterlo dentro la busta imballata ma ci devono mettere anche ovviamente una velina intorno the heart of deep madness questo è l'artbook di deep madness e dovrebbe essere da quello che avevo letto sul sito un artbook con un centinaio di pagine raffiguranti tutto appunto gli sketch e tutte quante le bozze e disegni che hanno usato come idea all'inizio per poi creare piano piano l'ambientazione del gioco che ricordo essere poi ve lo spiegherò nel video un'ambientazione cupa ambientata sott'acqua dalla mia dolce metà da mia moglie mi viene passata la roba dell'unboxing questo non so che questo forse dovrebbe essere il kit di conversione apriamo anche questo e vediamo subito lo scopriamo sì esatto come voleva si dimostrare altra cosa da paura il gioco il kickstarter è stato fatto in inglese in lingua madre però ovviamente anche in lingua madre anche per un pubblico un pochino più vasto però con una spesa di soli 10 euro vi danno tutto quanto il set e il regolamento e tutte le carte del gioco tradotte in italiano quindi un conversion kit voi nel gioco di base ci avrete quelle in inglese e quelle in italiano allora poi arriva la botta finale che non contente di tutto quello che abbiamo già visto finora ci sono gioco base più espansioni perché nel kickstarter che avete fatto chiunque l'abbia fatto e penso si possa rifare ancora l'hanno rinnovato perché questa è una seconda edizione del gioco la prima è stata mandata l'anno scorso ci sono gioco base più espansioni e vediamo un po' cioè guardate là ai lati del pacco ci hanno messo anche questi come li posso chiamare paraurti per non far rovinare gli angoli cioè guardate questi sono matti la prima delle tre cose che abbiamo visto è la scatola base del gioco di Deep Madness che è un gioco da uno a sei giocatori cooperativo questa è la scatola di base del gioco che già è disumanamente grande comprende tutti gli eroi tutti i tile di gioco tutte le carte carte ovviamente vi ripeto che avete sia in inglese non lo voglio anche in inglese che tradotte completamente in italiano le miniature i mostri le carte evento le carte equipaggiamento e tutto quello che c'è ma non è finita qui all'interno c'è anche la scatola della prima espansione che io non volevo dire pesa leggermente meno ma come grandezza è uguale Endless Nightmares che praticamente è la prima espansione del gioco e ogni espansione del gioco mette regole nuove non tanto nuove quanto aggiuntive per ampliare appunto il comparto rulebook del gioco di base di Deep Madness nuove miniature nuovi mostri nuovi tile e nuove carte come terza ed ultima cosa la piccola tra molte virgolette che è già questa il grande frappino come Descent questa scatola Uncounted Horrors che anche questa come l'altro comprendono sempre carte nuovi tile nuovi personaggi nuovi eroi e tutto quanto quello che avete visto finora ovvero tutto questo tutta questa roba qui che vedete che poi dentro ci sono in tutto fra tre scatole 165 miniature tutti gli stretch goal sbloccati le carte tradotte in italiano il gatto jones di ripliche bello ci sta il rulebook e l'artbook di 100 pagine allora ragazzi adesso vi spieghiamo un po' il regolamento del gioco di Deep Madness partita di base nel pacchetto base il core box avventura numero 1 della campagna vi spieghiamo un pochino le regole tanto alla fin fine ci basterà farvi vedere le regole principali più uno o due turni di gioco e capirete tutto come funziona comunque questo che vedete è il tavolo da gioco questa è la zona di partenza con i nostri sei avventurieri che nel gioco si chiamano investigatori ma andate ad investigare in questa base di cadat per sapere cos'è successo vedete che ci sono vari tipi di mappa di tile ognuno numerato e ce ne sono alcuni in chiaro come questo e altri invece di colore rossastro perché quelli in chiaro sono settori normali della stazione mineraria cadat mentre quelli rossi sono settori infestati che vi faremo vedere andando avanti quindi settori infestati dove sponeranno mostri segnalini celesti che vedete messi qua corrispondono a dei settori allagati perché appunto trovandoci sott'acqua ci sarà la possibilità di allagare delle parti di mappa con delle regole particolari che dopo vi spiegheremo segnalini con le mani colorate in questo caso nella prima missione verde che sono segnalini di missione quindi obiettivi oggetti da prendere per completare la missione e questo piccolo segnalino che poi alla fin fine c'è in tutti quanti i settori contagiati questo è il segnalino di spawn per dove sponeranno esattamente i mostri quindi i mostri sponeranno sempre su questo segnalino qua giù che ora rimetto nella posizione che avevo preso segnalini parete quindi segnalini parete stanno a bloccare porte perché le porte in questo gioco come vedete sui tile devono essere collegate quindi questa porta si collega a questa perché sul tile 22 e sul tile 10 sono due porte aperte e illuminate nel tile 12 e 15 le porte si collegano però se ad esempio qui ci fosse stata una parete per quanto qui ci fosse una porta sul tile 22 non sarebbe stato possibile transitare sul tile 10 allora scheda e personaggio perché vi ricordo che anche se giocate in 2 3 4 giocatori gli investigatori in campo dovranno sempre essere 6 perché il gioco è bilanciato su 6 investigatori quindi nel caso giochiate in 2 come io e mia moglie adesso ve li dovrete dividere quindi 3 per 1 vedete sulla scheda dei personaggi con rosso in alto i punti ferita quando raggiunge gli 8 punti ferita il personaggio è morto le 8 ferite 3 punti sanità mentale 5 che sono i punti fuga per sfuggire dai mostri che vi spiegherò poi dopo durante un combattimento l'arma principale l'oggetto principale con cui parte il vostro investigatore lei parte con un bisturi poi descrizione del personaggio con talento e abilità speciale e ogni personaggio ce n'ha uno più valore dell'ossigeno di ciascun personaggio perché come vi ho fatto vedere precedentemente sono dei settori della mappa che sono allagati e in questi settori si spercherà ossigeno almeno che non abbiate un personaggio o una tuta che vi permettano di respirare sott'acqua ma di base nessun investigatore ce l'ha quindi con questi segnalini ossigeno ogni volta che farete una mossa per muovervi o compri un'azione tipo cercare combattere fare un obiettivo all'interno di un settore allagato dovrete scalare di 1 in senso anti-orario fino a poi a girare e andare su un valore negativo tipo come state vedendo ora un meno 2 che comporterà la perdita di punti ferita la sequenza d'attivazione che è la parte più importante tutto il meccanismo il regolamento del gioco gira su questa sequenza chiamiamola di autodistruzione della base di Caldat perché è quella e dell'avvio di ogni singolo evento per ogni turno che poi vi spiegherò appena inizieremo col turno e vi farò vedere come funziona e vedete che ci sono i turni in partenza da un inizio a una fine che è una fase di esplosione dove se il cursore di turno arriva fin laggiù la partita è automaticamente persa in più ci sono i dadi da gioco che sono dadi normalissimi asse facce vedete 4 2 3 e anche con dei segnalini che servono a volte per risolvere obiettivi o per difendere alcune ferite con un segnalino colorato accanto al numero di solito sono accanto al 5 e al 6 e più un dado mostro che deve essere tirato nel momento opportuno per vedere se il mostro riesce ad attivare una delle sue abilità speciali le fasi di attivazione il turno di gioco è diviso così fase di infestazione fase di generazione dei mostri fase di attivazione dei mostri fase di aggiornamento in cui le abilità vengono ricaricate l'ossigeno se è fuori dal settore è allagato viene ricaricato status mentale e cose del genere e poi inizia la fase degli investigatori che sarà di movimento loro ogni investigatore in questo gioco può compiere 3 azioni e queste 3 azioni possono essere di movimento o ovviamente mischiate attacco esplorazione scambio di oggetti riposo per recuperare tutti i punti sanità mentale persi blocco sblocco reset portello perché in questo gioco i portelli possono essere bloccati per evitare per chiudere dei mostri dentro dei compartimenti stagni e non farsi rincorrere in più azioni di utilizzo di un oggetto o di un'abilità di un personaggio poi c'è tutta quanta la sequenza di attacco dell'investigatore che vedrete nel dettaglio a breve ci sono gli effetti dell'infestazione che sono piccolissimi token veramente piccoli che vedete poi le vedrete durante l'avventura a giro per il campo e dietro il foglio ci sono scritti tutti quanti gli effetti che avranno sui vostri personaggi quindi si va dalla perdita di un oggetto alla perdita di un punto ferita a un rallentato un indebolimento e altre cose che vedremo più avanti inizio del turno i nostri avventurieri i nostri investigatori sono tutti quanti nel compartimento di base allora prima di tutto come vi ho fatto vedere prima dalle regole di gioco c'è subito prima ancora che inizia la partita il primo movimento dei giocatori c'è la fase di infestazione la fase di infestazione funziona che ci sono delle carte come vedete qua giù di settori infestati girate a faccia in su che sono i settori quelli che vedete rossi sulla mappa e delle carte di settori neutri non ancora infestati quindi questi qui sono settori di un altro colore che sono ancora fuori dall'infestazione appunto di questa razza aliena o comunque di creature non venute sicuramente dalla terra io da questo mazzo qui giro una carta per vedere dove andrà l'infestazione e la carta mi dice che l'infestazione il prossimo settore infestato andrà sul tile numero 17 quindi io lo metto sopra il mazzo già infestato e vado a cercare il tile numero 17 che è questo qui quindi questo tile che è di questo colore così io lo giro da quest'altra parte che forse è la cosa più bella del gioco perché vedere questi tile double fast così con due diverse colorazioni è anche una figata assurda e quindi ora il regolamento mi dice che in quest'area qui ci dovranno spawnare dei mostri allora io devo andare a prendere un token di infestazione che sono questi qua e spetta al giocatore decidere in quale due caselle metterlo perché vedete ogni tile è diviso da una riga bianca ad esempio questo qui ha 4 zone di movimento questo scena 2 essendo rettangolare e lungo e sta ai giocatori decidere dove metterlo se qui o qui io lo metto qui poi il regolamento ci dice anche che questo settore qua non solo deve avere una zona di generazione dei mostri ma deve anche avere un altro token effetto per ogni sua stanza in più quindi se fossi stato qui avrei dovuto mettere l'infestazione più 3 token casuali qui devo mettere un'infestazione più un token per vedere cosa potrebbe succedere lì in mezzo e ne prendo uno a caso qua giù dentro che è un simbolo questo qui vedete c'hanno tutte quante le punte intorno con un coso nero con un cerchetto blu all'interno e un meno uno che vado a mettere qui non ricordandomelo a tutti perché sono un pochino che effetto potrebbe dare sulla carta mi dice al termine della tua attivazione scarta una delle carte esplorazione le carte esplorazione sono le carte equipaggiamento quindi se uno degli investigatori dovesse finire il proprio turno qua dentro a quel punto lì automaticamente dovrebbe scartare una delle carte che ha in mano ricordo che ogni investigatore può ottenere massimo 4 oggetti ovviamente armatura o una sola non è che può ottenere 4 armature un'armatura però può ottenere anche 3 armi o vari equipaggiamenti ne può usare soltanto una alla volta e in più se finisce qua dentro dovrà scartarlo fase di infestazione e fase di generazione ogni volta che iniziate un nuovo turno dovete spostare il cursore qua giù sulla sequenza di autodistruzione cosa ci dice che un settore verrà infestato che è quello che abbiamo fatto qui il settore numero 17 in più sulla sequenza qua giù in cima sulla striscia c'è scritto ci sono dei numeri 3, 3, 2, 3 queste sono le generazioni di mostri che verranno fatte la generazione dei mostri funziona prendendo i mostri da questo mazzo questo qua giù che vedete il mazzo dei mostri e tirando pescando tre carte e risolvendole subito per andare a vedere in che settore i mostri verranno generati primo settore di generazione è l'ultimo giocato a faccia in su in cima al mazzo generazione che è il 17 quindi quello che avete visto appena infestato io vado a pescare la prima carta di questo mazzo la giro e viene fuori un putrido uno soltanto perché a volte ci sono più numeri qua sotto più caselle che vuol dire che più mostri vengano generati in più settori differenti quindi nella casella numero 17 verrà posizionato un putrido poi il primo compartimento è stato infestato con un putrido quindi il prossimo sarà il numero 2 che andiamo a identificare sulla mappa il prossimo compartimento è il numero 2 quindi questo qua giù in fondo questo qui e i mostri verranno generati qui quindi dal mazzo dei mostri giro una seconda carta che è un altro putrido quindi anche lì viene generato un putrido e messo esattamente in quel punto centrale lì io il mostro lo metto qua giù scartato nuova carta di generazione dei mostri che giriamola è il settore numero 12 almeno stavolta ci è andata bene che ci spawnano subito allo spawn settore numero 12 ovvero questo qua giù in questa zona quindi un settore allagato perché vi ricordo i segnali blu sono di settori allagati qua giù sul 12 vediamo che cosa spawnerà questa volta e sono due famelici come vi ho detto vedete hanno due numeri io spero si vedano senza la luce a fare riflesso ne vengono generati nel settore 12 laggiù due perché vedete dice nel primo settore due e nel secondo uno quindi nel primo settore ne vengono generati ne vengono generati due grazie amore nel primo settore nel 12 qui due famelici qua e poi giriamo un altro settore dove ne verrà generato uno quindi nel settore 8 il settore 8 infestate questo qua giù in fondo ancora un altro famelico quindi ancora prima di iniziare l'avventura sappiamo che i nostri investigatori sono qui il primo settore infettato è questo qui e ci sono un putrido sul 17 un putrido sul 2 due famelici sul 12 e un famelico sull'8 quindi la fase di infestazione è stata fatta ora inizia la fase di attivazione fase di attivazione un'altra figata che vi giuro adoro di questo gioco ma lo dico sinceramente faccio un applauso veramente un complimento agli sviluppatori è che in tutti i giochi di solito come i zombie sai dove altro prima si muovono l'avventurieri e poi dopo c'è la fase dei mostri descent prima l'avventurieri e poi magari la fase dei mostri in questo gioco invece è una figata che ci si muove alternativamente e quindi vedete questo token il primo personaggio a muoversi sarà Arthur Wayland quindi un investigatore però poi questo token andrà giù e toccherà Fiamelici si sposterà in diagonale sul dottore dell'equipaggio Roman Asimov e poi sull'abominio poi su Felicia e poi sul putrido quindi ci si muove sempre così la mossa sarà sempre prima dei giocatori ma successivamente dei mostri una volta che il turno sarà finita e tutti gli investigatori avranno mosso tutti quanti praticamente la prima carta del mazzo che è ve l'ho detto dell'attivazione Arthur Wayland verrà spostata in fondo e tutte quelle altre spostate avanti quindi andranno a scalare questo è stato fatto secondo me molto genialmente per modificare anche l'essenza dei turni del gioco perché uno potrebbe dire va bene io ho quel mostro di corpo a corpo ma tanto so che nel turno successivo ritocca al mio Arthur Wayland quindi faccio un'azione lo ammazzo easy va bene e uno potrebbe calcolare così le proprie mosse ma scalando quello che inizialmente si è mosso per primo nel turno successivo si muoverà per ultimo quindi il famelico questa volta attaccherà prima e non dopo perché le carte degli investigatori scalano e spostano a sinistra ma le carte di mostri da inizio a fine partita alle nemesi resteranno sempre queste turno di azione quindi non ci sono mostri quindi almeno all'inizio non ci sarà da combattere questo settore è diviso in due io vi ricordo che ogni personaggio almeno che non abbia carte di equipaggiamento o abilità speciali ha tre azioni quindi tutti i personaggi hanno tre azioni io mi sposto di uno vado in questa casella qui in questa casella faccio un'azione di cercare quindi come mia seconda azione faccio cercare equipaggiamento dal mazzo equipaggiamento prendo una carta che è una vista dell'aquila questa carta vista dell'aquila mi dice quando attacchi con una mitraglietta o comunque un'arma da distanza puoi girare questa carta e guadagnare più uno alla gittata perché le armi come vi faccio vedere adesso quindi questa la metto sulla carta di Arthur Wayland qua giù perché è un equipaggiamento che ha trovato le armi hanno vari valori chiediamo a molle se si vedono un po' più un basso ok hanno vari valori il primo è valore digittata quindi a quante caselle può tirare non tile caselle quindi divisioni bianche quanti dadi tira per colpire che risultato deve superare e guagliare o superare con i dadi per colpire e quanti danni fa per ogni successo quindi quest'arma qui questi qui sono i valori qua sotto e questa sopra l'abilità dell'arma della pistola questa abilità qui se io giro questa carta e la tappo che non la devo mai scartare ma semplicemente una volta che l'hai usata la giri sul lato opposto e poi la ristappi all'inizio del turno successivo mi dà più un'ingittata oppure puoi scartare questa carta quindi usi e la scarti puoi scartare questa carta in ogni momento e recuperare immediatamente tre punti sanità mentale quindi se uno ha dei punti sanità mentale può scartarla direttamente e li recupera fatto il primo movimento secondo terzo movimento mi muovo verso l'obiettivo in un settore allagato vi ricordo che in un settore allagato perdete ossigeno per ogni movimento o azione che fate in quel settore ma non entrando o uscendo qui verrebbe la domanda però se la porta è aperta perché non si allaga tutta quanta la stazione perché se da caso poi ve lo farò vedere ho anche le porte in 3D i modellini in plastica in 3D che ogni settore ha chiusura stagna quindi appena te entri esce un pochino d'acqua però poi il settore si chiude e non fa allagare l'attesanza se no ragazzi basterebbe a piena porta sarebbe tutto allagato e tanto vale già sott'acqua comunque mi sono fermato qui quindi il suo turno è finito non ha più azioni è arrivato qui e non perde un punto perché ve l'ho detto entrando uscendo da un settore allagato non lo perde si sposta il segnalino attivazione questa volta sul mostro il c'è un casino di capelli sul tavolo sul famelico il famelico vi ricordo che sono questi due qua giù e questo qui sulle carte di c'è alcun mostro c'è scritto quello che il mostro dovrà fare l'attivazione sua vera e propria cioè non è come tutti i giochi dice fanno due mosse e poi ti attaccano ci sono mosse che magari fanno una mossa un attacco e una mossa due attacchi e una mossa oppure speciale qui sulla carta mi dice che il mostro fa due movimenti e un attacco quindi questi mostri si muovono sempre più nella distanza minima per arrivare all'investigatore più vicino come su Zombicide quindi questi mostri faranno uno e due seguendo le aperture dei portelli ovviamente i mostri non affogano non hanno ossigeno sono creature acquatiche questo mostro qui invece uscirà da questa stanza e farà uno e due due movimenti arriverà qua giù però arrivando qua giù non ha possibilità di attaccare nessuno guardando la carta del mostro qua giù in fondo ci sono i valori dei mostri che andete a fronteggiare il valore di paura del mostro che è qua su in cima quindi combattendo questo mostro dovrete fronteggiare questo livello di paura che vi faccio vedere più avanti il livello di afferramento so che è brutto detto così e malarità del mostro quindi vi ricordatevi ho fatto vedere il valore di fuga su una carta se il vostro personaggio ha valore di fuga 4 può scappare da un valore di afferramento massimo di 4 quindi può scappare tranquillamente dal famelico sarebbe cumulativo nel caso ce ne fossi più di uno poi il numero di ferite che fa il mostro 1 la gittata del mostro quindi 0 il mostro attacca solo in corpo a corpo il livello di armatura del mostro 0 questo mostro non ha alcuna protezione e il livello delle ferite del mostro ovvero fargli due danni lo ucciderà e ora ovviamente cerchiamo di velocizzare un po' facciamo conto che tutti gli investigatori bene o male sono arrivati tanto le azioni che avete visto fare a Wayland sono le stesse degli altri gli investigatori sono arrivati qui ok quindi adesso qualsiasi personaggio che si muoverà in una casella allagata mettiamo caso sia questo qui si muove in una casella da una casella allagata a quell'altra automaticamente quel personaggio che in questo caso è Jared Drake quel personaggio dovrà prendere il suo valore di ossigeno e scalarlo il suo valore di ossigeno e scalarlo in senso anti-orario di 1 quindi da 6 va a 5 perché ha fatto un'azione che comunque il movimento conta come azione in un settore allagato arrivando a prendere l'obiettivo perché queste mani verdi sono gli obiettivi che dovete completare prima che la sequenza di istruzione arriva a fine per vincere la partita questa partita dice prendete tutti e tre gli obiettivi verdi e portateli all'uscita su quello rosso che questa avventura racconta che piano piano l'ossigeno sta andando a scemare prima che la stazione esploda del tutto e finisca di allagarsi e imploda più che altro che esploda e quindi noi bisogna prima che finisca l'ossigeno riattivare il macchinario per l'ossigeno se no moriremo tutti quanti affogati qua dentro arrivato qua giù c'è un obiettivo gli obiettivi come si prendono ciascun personaggio senza abilità senza andare a leggere le schede né niente deve tirare un dado un dado tanto i dadi sono sempre da 6 più quello nero del mostro devi tirare un dado da 6 e fare almeno 5 che vedete c'ha un simbolino qui sotto accanto e un 6 fregatemi dei simbolini deve fare o un 5 o un 6 per prendere questo oggetto qui però per ogni oggetto l'avventura dice che bisogna fare 3 risultati perché fate conto sono delle console che i personaggi stanno cercando di riattivare dei sistemi per far ripartire l'aria all'interno della stazione di Kadat quindi io vado a tirare il primo devo fare almeno un 5 o 6 fate conto che questo personaggio sia stato attivato qui e abbiamo ancora le sue 3 azioni quindi tiro il dado ho fatto 1 niente azione persa va bene riprovo un'altra volta a prendere l'obiettivo si però un'azione nuova quindi scalo l'ossigeno ed è questa la figata del gioco immaginatevi il vostro personaggio che cerca di attivare un meccanismo rotto mentre sta affogando mentre tiene il respiro una figata assurda secondo secondo risultato e questa volta ho fatto un 4 nemmeno il 4 basta a fare a prendere l'oggetto quindi scalo e vado a 3 nuovo check per vedere se questa volta vi è successo perché per ora ho avuto soltanto sfiga nuovo check tiro e questa volta ho fatto un 5 quindi avendo fatto un 5 automaticamente sono riuscito a fare un risultato positivo il primo di 3 per attivare questa zona qua giù quindi andando a cercare un segnalino verde quindi dello stesso colore dell'obiettivo ci metto sopra all'obiettivo da fare un 1 così da ricordare poi a tutto il resto del gruppo che qui un check è già stato fatto però avendo fatto tutte queste azioni avete visto ho perso 3 punti di ossigeno lo stesso gli altri personaggi potranno muoversi qua giù darmi una mano a fare questo obiettivo e quando questo obiettivo sarà risolto verrà automaticamente rimosso dalla mappa con tutti gli indicatori il segnalino obiettivo importantissimo sarà tenuto dal personaggio che l'ha preso in questo caso facciamo finta che sia Jared Drake perché poi sarà lo stesso Jared Drake a doverlo portare all'uscita per comprare la missione quindi queste sono le azioni che si possono fare ovvero cercare oggetti riposare recuperando sanità mentale non si recuperano mai punti ferita in questo gioco almeno che non troviate medikit non è che uno si addormente e recupera punti ferita e movimento all'interno e fuori dalle aree allagate ok ora per farvi vedere un'azione di combattimento fate conto che il capitano che è questo qua giù che è armato con una mitraglietta debba combattere questo putrido che gli è arrivato un corpo a corpo e vi faccio vedere adesso come funziona il combattimento allora la mitraglietta mi cambia borsa e si vede un po' più in qua la mitraglietta ok ha un valore di due tile di distanza tira cinque dadi però per colpire deve fare cinque o più e ogni risultato fa una ferita però la mitraglietta dice anche in attacco puoi spendere un punto sanità mentale per tirare due dadi addizionali che non è male perché uno inizia a batterare appunto tanti dadi per colpire ma noi inizialmente la usiamo così com'è in più lì c'è un putrido che è questa carta qui e il putrido cosa ci dice il putrido fa due ferite quindi un mostro forte ha un valore di fuga di due dà una paura di due attacca uno di distanza quindi avrebbe potuto attaccare anche senza muoversi ha uno di armatura sei punti ferita e la sua attivazione è prima muove e poi attacca però ha anche delle abilità speciali l'attacco dice tira un dado da dodici che è il dado da dodici con le faccine all'inizio dell'attacco se vengono fuori i denti del morso l'investigatore deve scartare una carta esplorazione quindi non solo ti colpisce ti ferisce ma ti fa perdere anche un oggetto in più se il putrido attacca un investigatore in una zona contaminata dopo che il putrido ha subito ferite ogni investigatore nello stesso spazio subisce un punto ferita perché è tipo l'oxenomorfo che genera acido quando viene ferito quindi se si trova in una zona contaminata combattere con quel mostro sarà molto difficile il combattimento si risolve semplicemente attaccando con il nostro personaggio che facciamo conto abbia iniziato il turno qui e quindi sia il suo turno di muovere quindi ha tre azioni nella sua prima azione dice attacca in una gittata di due ci siamo e deve tirare cinque dadi quindi io prendo cinque dadi da sei e con questi cinque dadi a sei facce devo fare almeno un cinque o più quindi tiro i dadi e come risultati ho fatto andando a vedere soltanto questo l'ho tirato in più andando a vedere soltanto i cinque o più ho fatto uno e due perché vedete un sei e un cinque però come vi ho detto prima il putrido ha un livello di armatura di uno quindi che automaticamente gli toglie un danno automaticamente in più ha sei ferite quindi sì io l'ho colpito però non l'ho ucciso gli ho fatto un danno e quindi le sue ferite scalano a cinque per ricordarsi dei punti ferita che ha subito un mostro conviene prendere direttamente un token perché se no si fa presto a dimenticarsene e io ho messo un token di una ferita accanto al mostro ritocca ancora a me ovviamente attaccarlo ritiro i miei cinque dadi e vediamo se questa volta andrà un pochino meglio perché tanto ho tre azioni quindi cinque sei e sei levando questi due quindi uno viene automaticamente annullato perché il mostro ha uno d'armatura che è quello ogni turno e ogni volta che lo si attacca però questa volta gli ho fatto due ferite quindi le ferite continuano ancora più ad alzarsi e questa volta diventeranno tre si prende al solito un segnalino con le ferite e li si mette accanto io in questo momento non lo trovo quindi ce ne metto uno uno e uno questo per ricordarsi che al mostro ha tre ferite nel caso invece se il mostro avesse attaccato me prendendo la carta del putrido si sarebbe risolto l'attacco i mostri non tirano dadi si vede amor mio i mostri non tirano dadi come su zombie side quando il mostro arriva corpo a corpo sono cazzi vostri il mostro fa due ferite come vedete qua giù quindi io automaticamente ho preso due ferite come ci si difende da queste ferite per difendersi delle due ferite che fa il mostro ogni investigatore tutti almeno che non abbiano un'armatura o un altro oggetto ogni investigatore tira due dadi sempre quindi se il mostro farà tre ferite una la prenderete automaticamente comunque ci si difende con questi dadi e per ogni 5 o 6 che faremo su questi dadi toglieremo una ferita al mostro quindi il mostro ci attacca una volta sola per turno seguendo l'attivazione sulla carta tireremo io ho fatto un 3 un 4 non gli ho affermato niente quindi automaticamente prendo due segnalini anzi uno l'ho trovato e lo metto ora qui per farvelo vedere mi andrebbe messo sulla scheda il mio personaggio ha subito due punti ferita allora il combattimento l'avete visto come si svolge facciamo conto che io il mostro l'ho ucciso nel combattimento precedente io il mostro l'ho ucciso e non ho nessun punto sanità mentale sulla scheda quindi non ho subito nessun punto sanità mentale uccidendo il mostro girerò un numero di carte pari carte premio ovviamente pari al suo livello di paura visto che il putrido ha un livello di paura di due io da questo mazzo qua giù che si chiama mazzo coscienza questo qui lo vedete col simbolino della sfera blu prendo una due carte le giro e le vado a risolvere subito che di solito sono premi infatti una delle due carte mi dice puoi compiere subito un'azione gratuita quindi io potrei fare già un'altra azione puoi compiere subito mi sono uscite due carte puoi compiere subito un'azione gratuita quindi la posso fare quest'azione gratuita anche fuori dal mio turno anche se non è il mio turno lo posso fare immediatamente perché sono carte che vanno risolte subito e questo è un bonus appunto di ammazzare un mostro quando non si ha sanità mentale ma se il mio personaggio avesse avuto uno mettiamo caso due simbolini sanità mentale sulla scheda che sono questi qui tondi celetti col simbolo del cervello se avesse avuto due punti sanità mentale uccidendo questo mostro che ricordo il putrido ha un valore di 2 di terrore automaticamente avrei dovuto girare un ugual numero di segnalini segnalini sanità mentale in segnalini terrore e diventavano due segnali di terrore sulla mappa ogni personaggio tutti tutti i personaggi nel gioco hanno un valore di sanità mentale che non c'entra niente con il terrore che è segnato in blu sulla scheda e ogni investigatore che subisce almeno 3 token di orrore quindi una volta che ne ha subito facciamo conto ce n'ha un altro un altro simbolino ne subisce 3 automaticamente vengono scartati tutti la sua carta viene ripulita da ogni singolo terrore però si prende una carta terrore questa qui col dorso rosso dal mazzo terrore e automaticamente si risolve che di solito sono cose brutte tipo questa qui dice sei paralizzato paralizzato vuol dire che questo personaggio qui fino alla sua prossima attivazione avrà perso il turno e non potrà più fare niente quando sarà il suo turno sarà paralizzato fermo lì nel punto e non potrà né muovere né compiere nessun tipo di azione ed è male perché una sequenza di attivazione che ti sposta anche lo slot del personaggio quindi magari hai mosso per primo e dopo muovi per penultimo potrebbe essere un malus molto grande come si prende punti sanità mentale questa è un'altra cosa geniale nel gioco di solito le case della follia cosa ci insegna che quando vai a fronteggiare un mostro automaticamente prendi punti sanità mentale quindi ti metti paura combattendo un orrore uscito detto peggio incubi qui invece in deep madness no che è una cosa generale sei tu che decidi di prendere punti sanità mentale quando decidi di fare azioni particolari ovvero ogni personaggio ha tre azioni come abbiamo visto nel corso di questo tutorial uno, due, tre movimenti sparare, cercare dare oggetti e quant'altro scambiarsi anche oggetti nella stessa casella punti sanità mentale li puoi usare per ritirare dei dadi quindi ti in qualsiasi prova che dice tira un dado per colpire tira un dado per risolvere l'obiettivo tira un dado per vedere anche semplicemente quelle che vi ho fatto vedere prima se riesce a parare un colpo o una ferita del mostro per ogni volta che tirate un dado rifate un tiro di un dado automaticamente vi dovete auto infliggere un punto sanità mentale perché il personaggio sta cercando di giocare con la sorte per farla avere a suo favore e quindi prende un punto sanità mentale quindi se voi non volete mai ritirare i dadi ma decidete di prenderlo un culo di prendere il danno per quello che è stato quindi finire il vostro turno no no a me mi basta le mie azioni non voglio andare avanti ok sarà più difficile per voi risolvere enigmi ammazzare i mostri però non prenderete punti sanità mentale ricordatevi quando uccidete un mostro e non avete punti sanità mentale prendete una carta coscienza quando uccidete un mostro e avete anche soltanto un punto sanità mentale si trasforma automaticamente in un errore tre errori una carta errore poi ci sono carte oggetto o anche il dottore all'interno del mazzo o abilità speciale che possono curarvi i punti orrore ok ragazzi in conclusione il gioco è uno spettacolo ve lo dico subito gli do voto 9 su 10 perché nelle sue regole cioè come tipo di gioco come idea non è il massimo della genialità perché comunque prende un po' a piene mani da vari giochi che sono usciti prima ma come regolamento meccaniche di gioco ci ho trovato cose che non ho mai visto quindi veramente grandi agli sviluppatori che l'hanno pensata bene cioè l'hanno pensato è sviluppato bene perché di solito non vanno di pari passo le cose il gioco è veramente interessante ti cala nell'ambientazione ti caghi addosso è bello come meccaniche è bello come personaggi è bellissimo spettacolare come miniature è un gioco e se cercate un gioco questo è un cooperativo al massimo livello questo è veramente un cooperativo cercate un gioco con un'ambientazione particolare ambientato sott'acqua una cosa spettacolare e claustrofobica Deep Madness veramente fa per voi vi ricordo che con 100 dollari potete prendere tutto quello che avete visto in questo video l'unica cosa è che io penso però spero di sbagliarmi il gioco non verrà mai edito in Italia perché sono stati loro stessi a pubblicarselo e loro sono sviluppatori ed editori quindi non penso lo faranno mai uscire e tra l'altro il gioco è già tradotto in italiano con 10 dollari in più potete comprare kit di conversione che ve lo traduce tutto quanto e questo è il gioco che secondo me è veramente spettacolare poi non ve l'ho spiegato nel dettaglio ma le meccaniche vero male sono queste è veramente uno spettacolo e ve lo consiglio se volete provare qualcosa di particolare e ve lo dico per ora poi magari per un mese due mesi uscirà qualcosa per me migliore ma al momento è il mio gioco da tavolo preferito e da quando l'ho visto sul kickstarter ho sognato tutti i giorni di riceverlo quindi thank you Byron for the gift ringrazio Byron per avermelo regalato che è uno degli sviluppatori del gioco tra l'altro se non era affatto il regolamento e più ha collaborato anche all'ambientazione il gioco è veramente bellissimo 9 su 10 primo link in descrizione per acquistarlo e date retta se siete amanti dei board game per 100 dollari è da pazzi farsi sfuggire una cosa del genere unico punto negativo secondo me del gioco unico se non gli avrei dato un voto più basso di 9 è questo qua giù unico punto negativo che ragazzi cioè troppi token cioè ho capito che ci sono tante cose portelloni compartimenti d'aria camere stagne cioè segnalini sanità mentale segnalini follia punti per ogni obiettivo porte da muovere o da sbloccare obiettivi però ragazzi cioè guardate là cioè è impossibile ci vogliono 10 bustine perché sono 10 diversi per dividerle tutti e per cercarli durante un'avventura cioè uno li potrebbe tirare a me fossero di obono coriandoli sono troppi troppi segnalini però per il resto veramente è un gioco che vale oro quindi 9 su 10 Deep Madness spettacolare ciao alla prossima ciao a tutti